Domenica 20 giugno nella cattedrale di San Rufino, Don Matteo Renga ha ricevuto l'ordinazione presbiterale per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Domenico. Dopo l'omelia sono seguite le interrogazioni e la promessa di obbedienza, infine i riti esplicativi con la vestizione degli abiti sacerdotali, l'unzione crismale, la consegna del pane e del vino e l'abbraccio di pace tra il Vescovo e il neosacerdote. Sono stati tanti momenti di intensa preghiera e spiritualità vissuti dalla comunità diocesana che ha accompagnato con la preghiera il nuovo presbitero.